Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in questo studio, sono Alexander e oggi siamo su Among Us Perché? Per fare le altre battite E niente Me lo riscrivo Ok Me lo riscrivo tanto per Questo lo metterò qua, tanto perchè non mi dà forse io là Allora, oggi siamo su Among Us Colo, acquittato, ok Ciao E non nessuno mi ha risposto Oh, e te pare, io inglesi Inglesi, sempre inglesi Non inglesi, oh ciao zio Ciao zio Ciao, Euster No, è vero, non sarà libro, perchè il mio colore è Senti, io di solito ho sicurato il rosso Shhh Io mi ci zitti, va? Ecco Allora, aspetta un attimo, anche un attimo, sta porta Sto portando a me non è che si schietta tanto Di caldo Quindi Ok Ragazzi Ok, bisogna stare solamente vicino a tutti Fraz Mi sono cagato in mano, giuro Cioè, appena inizio il video ho già mi cagato in mano Cioè Non siamo sicuramente anima E infatti Sto chiedendo da altri posti Sta fatto un po' di rumore, ok Così, adesso non mi sento, se non è il caso grido Perché il pomeriggio Perché il pomeriggio quando la gente dorme E gridare allo stesso tempo Non è che vanno tanto d'accordo Schippate per favore Vabbè, perché lo traduco un po' 5-5-5 No, sì, giuro, sei 5-5-5 No, un impastore Mi spesso solamente un poco per 5-5-5 Vai, vai, venite, venite Ok, nessuno di loro dove mi segue Oh, diable bestia Effettivamente Non è che sarebbe una Una bruttita andare qua Ok, grazie, zio Ok, ragazzi, ecco, mi ha ammazzato Questo qua Yo, yo, yo Fati, vag Sì, ma però che sfiga, eh Che cavolo Green Eh, ragazzi, io non so tradurre green, giuro Vota io Vota tu Votiamo te Però solamente che votino lui E se hai giusto coso Grandi Maestri GG 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 Per questa bella vittoria Eh Giusto, comunque Io tengo un assi Cacchio premuto Ok Adesso mi sembrava di aver premuto qualcosa di strano Tipo buona Ecco Non mi ha cambiato nome Ok, questo gioco mi va bene Ecco, vedete Che cavolo, però C'è una delle cose che ho visto in gioco A parte gli assassini che ti ammazzano Questo fatto qua Tu premi Poi metti tre ore Poi fai in uno di questi Ok Ma Ma what the fuck Uh, alleluia Fai fino ad avanti si corre veloce Freddy Fai scrivere ciao Beh, veramente si chiama T.Eddy Che nome Sarebbe un pochino baggadella Eh, no Siamo avanti Oh, alleluia Ma basta quitare Ma sono l'unica roba che quitano Veramente Va bene Ragazzi, non so perché Ma sono diventato bravo A fare questa cosa C'è questa specie di nigg Ma solamente è questa Subito la creatura Ragazzi, già sto correndo Come una mamma tombriaca Ma so benissimo Che c'è qualcosa da fare Ok Ok, ok, ok Bravo, zio Però c'è anche quell'altro Da fare Ma sicuro Ok, ragazzi, eccomi C'è anche Ciro 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 Ciao Ciro Vabbè dai Un attimo Un attimo messo Se il video Assolutamente perché Leggermente Incazzaro Non che abbia detto Parolace E' un bestemmio E' un bestemmio E' un bestemmio Però Non che abbia detto Parolace Però mi è un attimo Incazzaro E vorrei un attimo Metti in posto il video Per mai un attimo Per il telefono E mettermi un attimo Le mani in faccia Vabbè, per Calmarmi Diciamo Perché veramente Cioè per me In reale Sono 10 persone Cioè ma 7 Proprio No sto scherzando Ragazzi Non sto scherzando Né che mi sono Né che mi sono Messo le mani in faccia Da quando c'è un attore qua Ok Completiamo Vedo ti giuro No ragazzi Potrebbe essere lui No Non è lui È fortuna No 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 Come si chiama E' quel palito Perfatto Vabbè Ma controllati In acqua Non c'è nessuno Cioè come non fai troppo passi Come fanno la gente Oddio What Ah perché sto Per 15 Cioè il rosso Si chiama Iello Io schifo Andò perro Magari se becco E' quello Quello Boh Boh Ambo C'era A Sam Non poco D'inglese No perché Ciro Ah Caposto Ma dai perché Ciro C'è un po' cattivo Tavate come cosa Ok Hai cercato di stare Mi vicino Se fa sembra Non è l'assassino Ragazzi comunque vi si consiglio Di fare tre assassini C'è tre impastori Perché Perché è impossibile Se vengono sempre impastori C'è impossibile Un altro poco Apex per quindi Oh te mi fido di te Ok Presto Ok Da quella parte Eh no Riempi 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 Un altro volta E' fatemi fare il sessice Che ve devo dire Però che non me lo faccio Un altro di fare Eh ti pare Ehi Ok se fossero No no Ok tanto di yellow Eh infatti è un vivo di ammazzare Sennò lui mi vedeva Però lui ci vedeva Ah beh dai Oh Eh 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 ma è black Oppure Forse Ciro Abbiamo un po' di dubbi per Ciro Ma Devo votare No Laura non posso votare Che che è voto Green No teoricamente Dovebbe essere bene Certo Apex No Apex No Apex No Apex Non era Vabbè E Apex E se magari mettere Oh Schippate Vabbè Scegliamo ma Non ho schippato Tu Ecco Te pareva Nessuno Anche sarà in basso Righello Ciro Apex No Dove Oh my god Che si chiama No 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 E yellow E yellow E yellow Già è yellow Red Rosso 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 Ragazzi Il giorno Tengo dei dubbi Spacciati Sul rosso Eh però Non vorrei tenere Di dubbi Su di te Però basta Che me lascia in pace Ragazzi Rosso Rosso C'è molto poco Da dire Very very poco C'è il rosso Ragazzi Rosso 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 Cioè Per forza Dove fai Quella cacca De stanza Questo è Per un'unità In possibile Dal rosso Perché Quello Si è messo In posizione La Poi si era Posso anche Ciao Ci vi giuro C'è dei dubbi Spacciati Sul rosso Ok No Te varevo Ok Giro forza Ok Grande Apex E rosa E rosa E rosa E rosa E c'è molto poco Da dire Very very poco Denuvo Abax Mi fido di te Ok Questo 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 Preggio Teo Tengo Tengo De dubbi Spacciati Sulla Rosso Tantigioso Nero Non so Chi è Cerco Di set Per un nuovo Potibile D'arro Dall' Rosso E il rosso Che felata Mi sa Bu No Che felata Vabbè Ci vediamo Ragazzi La partita è finita Che era Ciro Era Ciro Io mi fidavo Di Ciro Io mi fidavo Di Ciro Era proprio lui Era lui Vabbè ragazzi Spero questo vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E commentate mi raccomando E noi ci vediamo Domani Stasera ragazzi Forse sarò in live Non lo so Vi farò sapere con un commento E noi ci vediamo Stasera Forse domani Con un prossimo video Ciao Ciao